Non mi trovo strano di essere considerata diversa o diversa. Penso che è qualcosa che mi fa stare nella stessa stessa. E stare nella stessa stessa è buono. Sono una donna che da sette anni ha una relazione con un'altra donna. Da un anno siamo sposate in attesa di un figlio. Loro si erano dimenticati che io fossi non vedente. Però mi hanno detto, guarda, ti assumiamo lo stesso perché è quello che interessa a noi, il talento. Migliori talenti vuol dire migliori performance. Clienti più contenti significa migliori performance.